Non c'è nulla che viene così frainteso come il pessimismo cosmico, e questo perché non lo si vuole accettare. L'uomo reagisce girando la testa dall'altra parte. Si rifugia nel puerile ottimismo, nel pragmatismo, nel razionalismo, nell'immaginazione della scienza e in altre fantastiche riesimili. Ma così le cose, dal punto di vista culturale, non migliorano, anzi peggiorano. E oggi lo stiamo vedendo nel modo più drammatico, nel disastro che ha combinato l'ottimismo della volontà nel mondo. Chi come me fa comunicazione filosofica si deve porre il problema di come far arrivare alla gente un messaggio del genere. Quindi deve essere interessato soprattutto a raddrizzare le strutture intellettuali nella testa degli uomini, per quanto sia nelle sue possibilità. Ciò va fatto indipendentemente dagli esiti, altrimenti cosa si scrive a fare? Se il lettore non capisce ciò che lo scrittore scrive, questi hanno il compito di spiegarlo meglio. Voglio spiegare ora cosa si intende per pessimismo cosmico. La vita è sofferenza, e le gioie si possono valutare non tanto come avente carattere essenzialmente negativo, come dice Schopenhauer, ossia come assenza di dolore, ma come distrazioni dalla sofferenza. Tentativi falliti di allontanarla, e sono costruite sulla base della sofferenza, che esiste a priori. Se non si risolve la sofferenza come base dell'esistenza, non si può nemmeno concepire la gioia vera. La sofferenza ha un carattere metafisico, quindi non si può risolvere all'interno della vita. La vita è bisogno e ricerca, per questo è sofferenza. La sofferenza non fa parte solo delle esperienze personali, ma è universale. Se così non fosse, come si potrebbe ammirare la lucidità di pensiero di un Leopardi, uno Schopenhauer, un Byron, uno Shakespeare, che l'hanno razionalizzata nella poesia, nella filosofia, nella tragedia? In caso contrario, sarebbe come denigrare la loro arte, e dire che ciò che hanno scritto non vale niente, o è un lamento della loro vita personale. Ora, si può leggere tutto questo come nichilismo, ed in effetti lo è. Ma non lo è in senso assoluto, qui sta il punto. Lo è in senso relativo, cioè relativo al mondo. Il mondo è un'entità finita, quindi non esaurisce tutte le possibilità dell'essere. Mentre il nichilista lo crede, e in ciò pecca di superbia. Infatti, egli pensa che la sua condizione sia reale ed assoluta, senza accorgersi che è egli stesso un essere finito che pone il problema dalla sua condizione di finitezza. Sono convinto che, se invece del cristianesimo avessimo avuto una cultura buddista, la quale fonde nel concetto di Nirvana i concetti di estinzione, illuminazione e risveglio, questi discorsi apparirebbero del tutto normali e non paradossali. Ma purtroppo siamo in Occidente, e per di più ora anche sotto il pragmatismo scientista e tecnologico. E allora non si può capire nulla di tutto ciò, di queste antiche e profonde verità, ed io stesso, che cerco di esprimerle al meglio, somiglio ad un mostro emerso da chissà quali abissi, mentre, mi si creda, sono perfettamente sano e normale. Ora, si potrebbe obiettare che dopo gli studi buddhisti, platonici, sciopenaveriani e leopardiani, è sì vero che cadono i veli dagli occhi, ma ognuno alla fine resta tale qual era prima. Gli studi servono alla riflessione, ad alleviare il sanguinare, per dirla con Choran, perché ciò che si razionalizza e si universalizza lo si sopporta meglio. Quindi non si può convincere un ottimista a farsi pessimista, e questa visione non serve a vivere, ma a riflettere sulla vita. Tuttavia, per colui che comprende il pessimismo e lo fa suo, la vita cambia realmente, e la cambia non in senso affermativo, cioè scegliendo diversamente, ma in senso contemplativo, cioè non scegliendo, rifiutando di fare scelte che propongono cambiamenti, che sono alibi. Tanto per fare un esempio, se qualcuno invita al gioco delle tre carte, l'ottimista gioca perché vi vede la possibilità della vincita. Il pessimista, invece, rifiuta perché sa che è impossibile vincere. La vittoria è sempre di chi fa le carte. Allora la conclusione è che l'ottimista perde e il pessimista evita la perdita. E così è per tutte le cose della vita. Si tratta di un alto grado di accortezza e consapevolezza. Ora, non si può teorizzare il pessimismo cosmico se non si ha la luce dentro. In questo senso si parla di fede, in senso mistico, cioè di una fede per uomini maturi. Il pessimista è colui che avverte la presenza di un'altra realtà, opposta alla nostra, una realtà fatta di luce e amore, e la avverte dentro di sé, in una regione però talmente profonda è talmente al di là dell'uomo e della sua comprensione, che non può essere espressa, né manifestata. L'espressione può avvenire solo in senso negativo, cioè guardando il mondo e comparandolo a quella luce, dicendo ciò che il mondo è e ciò che non è rispetto ad essa. Il pessimismo, quindi, esclude il nichilismo, ed esclude anche la depressione, la pesantezza del vivere, perché conduce al distacco dal mondo, quindi alla leggerezza, alla visione della verità. Se non fa questo effetto, come nella maggior parte dei casi, non lo si comprende, e allora ci si oppone, si reagisce rifugiandosi nelle varie teorie positiviste, razionaliste, esistenzialiste, pragmatiche, eccetera, che non hanno senso, come è successo a scrittori come Nietzsche e a tutti i posteriori, e come succede a quasi tutti gli uomini che corrono dietro le ideologie progressiste, eccetera, per sognare la felicità in terra. Ma io amo i pessimisti, le loro riflessioni sono le mie acque, e qui voglio dire che la filosofia pessimista non serve a niente per gente che non vale niente, ma serve a molto per gente che vale molto. Quindi è chiaro che questi studi, profondissimi, lucidissimi e veri piedi, resteranno libri chiusi per la gran massa dell'umanità, compresi tanti eruditi, gente che non capirà mai niente. Per uno che ha i veri sugli occhi, Leopardi apparirà come uno sfigato e Schopenhauer come un filosofo da salotto, o, peggio ancora, un vigliacco rinunciatario che dice no alla vita in luogo di affrontarla. E con ciò rivela la sua incapacità di riflessione. Ma questi due grandi pessimisti insegnano che, in un mondo del genere, nel quale non è possibile una qualsiasi stabilità, una condizione duratura, ma tutto si trova in un vortice e in un mutamento incessanti, tutto incalza, vola, si tiene in piedi sulla corda, camminando e muovendosi continuamente. Non è possibile nemmeno immaginarsi la felicità. Essa non può risiedere dove ha luogo soltanto il costante divenire senza mai essere di Platone. Prima di tutto, nessuno è felice, ma per tutta la vita aspira a una presunta felicità che di rado raggiunge, e, se la raggiunge, è solo per esserne deluso. Ma la regola è che, alla fine, ognuno giunga al porto avendo fatto naufragio e senza più alberi. Ma allora è indifferente che egli sia stato felice o infelice, in una vita fatta solo di presente, privo di durata, e che ora ha fine. Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, volume 2. E Leopardi gli fa eco nel dialogo tra il fisico e il metafisico. E fa dire al metafisico, se la vita non è felice, che finora non è stata, meglio ci torna averla breve che lunga. E il fisico gli risponde, oh, contesto no, perché la vita è bene da sé medesima, e ciascuno la desidera e l'ama naturalmente. E il metafisico ribatte, così credono gli uomini, ma si ingannano, come il volgo si inganna pensando che i colori siano qualità degli oggetti, quando non sono degli oggetti, ma della luce. Dico che l'uomo non desidera e non ama se non la felicità propria, però non ama la vita, se non in quanto la reputa, instrumento o subietto di essa felicità. In modo che propriamente viene ad amare questa e non quella, ancorché spessissimo attribuisca all'una l'amore che porta all'altra. Vero è che questo inganno e quello dei colori sono tutti e due naturali. Ma che l'amore della vita negli uomini non sia naturale, o vogliamo dire non sia necessario, vedi che moltissimi ai tempi antichi elessero di morire potendo vivere, e moltissimi ai tempi nostri desiderano la morte in diversi casi, e alcuni si uccidono di propria mano. Cose che non potrebbero essere se l'amore della vita per sé medesimo fosse natura dell'uomo. Come essendo natura di ogni vivente l'amore della propria felicità, prima accadrebbe il mondo che alcuno di loro lasciasse di amarla e di procurarla a suo modo. Che poi la vita sia un bene per sé medesima, aspetto che tu me lo provi, con ragioni o fisiche o metafisiche, o di qualunque disciplina. Per me dico che la vita felice sarà bene senza fallo, ma come felice, non come vita. La vita infelice, in quanto all'essere infelice, è male. E, atteso che la natura, almeno quello degli uomini, porta che la vita e infelicità non si possono scompagnare, discorri tu medesimo quello che ne segua. E il fisico risponde, di grazia, lasciamo cuotè sta materia, che è troppo malinconica. Leopardi, Operette Morali, dialogo tra un fisico e un metafisico.